Che cos'è che mi manca? È l'energia, la sua energia, la sua risata, il suo modo di mettere le mani sul piano e raggiungere un obiettivo altissimo dal punto di vista armonico e questa è la voce che faceva vibrare i muri, faceva vibrare le anime, mi faceva spaventare e mi faceva ridere e mi mancano i nostri discorsi surreali e mi manca il fatto di non poter più sorridere dei guai con lui che è una delle cose che ci faceva meglio in assoluto.